Ben ritrovati, oggi parleremo di Nice, nato nel 1844 e morto nel 1900. La sua massima più famosa è l'uomo è una cosa da superare. Siamo nella branca dell'etica, l'approccio e l'esistenzialismo. Prima di Nice, nel 380 a.C., sotto forma di dialogo, Platone esplora nella Repubblica la distinzione tra realtà e apparenza. Nel I secolo d.C., il discorso della montagna nel Vangelo di Matteo esorta al disimpegno dal mondo per volgere l'attenzione alla superiore realtà del mondo futuro. Nel 1781 Kant afferma nella Critica della ragion pura che non potremo mai conoscere il mondo in sé. E molto tempo dopo, negli anni trenta del ventesimo secolo, le opere di Nice servono a edificare la mitologia nazista. Bene, l'idea niciana secondo cui l'uomo deve essere superato compare in Così parlò Zarathustra, il suo libro probabilmente più famoso. Il filosofo tedesco l'aveva pensato per tagliare un deciso attacco alla storia del pensiero occidentale. In particolare prendeva di mira tre cose. L'idea che abbiamo dell'uomo o della natura umana, l'idea che abbiamo di Dio e le idee che possediamo sull'etica e sulla moralità. Nice lo scrisse con uno stile irruento e febbrile, tanto che a volte il libro appare più una profezia che un trattato filosofico. Lo aveva scritto in fretta. Comunque riuscì ugualmente a delineare una visione coerente ed estremamente stimolante. Il libro comincia dicendoci che all'età di trent'anni Zarathustra si esiliò per vivere sui monti. Si godette dieci anni di solitudine ma una mattina si svegliò e scoprì di essere stanco della saggezza accumulata grazie all'isolamento. Pertanto decise di scendere sulla piazza del mercato per condividere la sua saggezza con il resto dell'umanità. Mentre scendeva verso la città Zarathustra incontrò un vecchio eremita ai piedi della collina. I due uomini si erano già visti dieci anni prima quando lui era salito sulla montagna per isolarsi. L'eremita si accorse che Zarathustra era cambiato nel frattempo. quando era salito sulla montagna per isolarsi disse l'eremita aveva portato le ceneri mentre ora che ne era disceso riportava il fuoco. Poi l'eremita chiese a Zarathustra perché ti preoccupi di divulgare la tua saggezza. Egli consigliò di rimanere sui monti dicendo che tanto nessuno avrebbe compreso il suo messaggio. Al che Zarathustra si mise a ridere, fece i suoi migliori auguri all'eremita e proseguì la sua discesa. L'idea della morte di Dio è forse la più celebre fra quelle niciane da collegare strettamente sia con la tesi dell'uomo che va superato sia con la particolare concezione morale del filosofo tedesco. Il rapporto fra queste tre cose si chiarisce proseguendo la storia di Zarathustra. Quando arrivò in città continuò rivelando alla folla l'idea che voleva trasmettere e cioè che l'uomo è una cosa da superare. Maaccio seguì un lungo discorso però quando Zarathustra arrivò alla fine la gente scoppiò a ridere immaginando che il profeta non fosse altro che un buffone. Nice riteneva che alcuni concetti come l'umanità, la morale e Dio fossero diventati troppo aggrovigliati. Quando Zarathustra afferma che Dio è morto. Questo personaggio fittizio non sta lanciando soltanto un attacco alla religione ma fa qualcosa di ancora più audace. Qui Dio non significa solo il Dio di cui discutono i filosofi e che pregano i credenti. Dio è la somma totale dei valori superiori che noi coltiviamo. Pertanto la morte di Dio non è la fine di una divinità ma è la fine di tutti i cosiddetti valori supremi che abbiamo ereditato. Un obiettivo principale del pensiero niciano e che Nice definiva la rivalutazione di tutti i valori è il tentativo di mettere in discussione i modi in cui noi eravamo abituati a pensare l'etica e il significato o gli scopi della vita. Nice ribadiva che il suo tentativo mirava l'articolazione di una filosofia che sebbene rovesciasse tutto quanto avessimo pensato fino ad allora sul bene e sul male voleva comunque riaffermare la vita. A suo avviso molte delle cose che giudichiamo buone sono invece riduttive e limitanti e ci allontanano dalla vita. Dice voleva che l'umanità si vedesse in maniera diversa. Platone aveva diviso il mondo in apparente, quello che ci appare ai sensi, e il mondo reale, quello che noi possiamo comprendere con la mente. Per Platone il mondo percepibile con i sensi non è vero perché è mutevole ed è sottoposto al degrado. Platone pensava infatti che esistesse un mondo reale immutabile e permanente da comprendere grazie all'intelletto. L'idea è evidente se noi studiamo la matematica. Sulla base di questo approccio matematico Platone credeva che l'intelletto potesse accedere all'intero mondo delle forme ideali, che è permanente e immutabile, mentre con i sensi ci si potesse accostare soltanto alle apparenze. Nice ripercorse le vicende di questa tendenza platonica a dividere il mondo in due e scoprì la medesima idea all'interno del pensiero cristiano. La religione cristiana concepisce la realtà in cui viviamo ora come se fosse meno reale del futuro paradisiaco, anche se in questa versione dei due mondi quello vero è effettivamente raggiungibile soltanto dopo la morte e purché si seguano i precetti religiosi qui sulla terra. La vita attuale viene così svalutata, come faceva Platone, tranne per il fatto che essa funge da trampolino di lancio per l'oltretomba. Nice affermava che il cristianesimo ci chiede di negare la vita attuale a vantaggio di una promessa di vita futura. La versione platonica e quella cristiana dell'idea del mondo diviso in due, quindi apparente e reale, hanno influito profondamente sui pensieri che noi abbiamo di noi stessi. A causa di questo retaggio cristiano e platonico ci siamo convinti che la realtà in cui viviamo sia da criticare e da disprezzare, che sia qualcosa da cui fuggire o da trascendere, di sicuro non è una realtà da godere. Ma così facendo, dice Nice, ci alieniamo dalla vita, preferendo un mito o un'invenzione o un mondo reale immaginario situato altrove. Quindi bisogna sbarazzarsi di questa idea. Una volta che ci saremo sbarazzati dell'idea del mondo reale, la duratura distinzione fra questo e quello apparente comincerà a disintegrarsi. La fine di questo sbaglio, scriveva Nice, sarà lo zenith dell'umanità, il punto più alto raggiunto dagli uomini. Questo sarebbe a suo parere un momento determinante perché, afferrando il fatto che esiste una sola realtà, ci renderemo immediatamente conto dell'errore che ci aveva indotti a collocare tutti i valori al di fuori del mondo attuale. Dopodiché saremo obbligati a rivedere tutti i nostri valori e perfino a riconsiderare il significato dell'essere uomini. Sapendo guardare oltre le illusioni filosofiche, avremo superato la vecchia idea dell'uomo. Il superuomo è la visione niciana di un modo di essere che fondamentalmente afferma la vita. Nel 1900 l'idea del superuomo alimentò la retorica nazista a causa dell'interpretazione che ne diede Hitler. L'idea niciana, specie il suo appello all'estirpazione della morale giudaico-cristiana, che teneva in soggezione l'Europa, apparve attraente al dittatore nazista che la usò strumentalmente per i suoi fini. Tuttavia, mentre il filosofo pareva voler tornare ai valori rustici e vitali dell'Europa pagana, Hitler attinse alle sue opere argomenti utili a scatenare una violenza inaudita e a commettere crimini su basta scala. Quasi tutti gli studiosi concordano nel ritenere che Nietzsche sarebbe rimasto scandalizzato da questo stravolgimento. In così parlò Zarathustra, sosteneva chiaramente che il nazionalismo è una forma di fallimento o di alienazione e diceva che solo dove finisce lo Stato inizia l'essere umano che non è superfluo. In conclusione, tutti dobbiamo definire il senso della nostra esistenza. A proposito di Nietzsche, Freud diceva che il grado di introspezione raggiunto da Nietzsche non era mai stato raggiunto da nessuno. Bene, io mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online, sia con la videochiamata, sia consulenze telefoniche o via mail. Per richiedermi una consulenza psicologica dovete contattarmi su WhatsApp al numero 338 16 92 473 scrivendo un messaggio del tipo come funziona la consulenza e specificando il vostro nome, cognome e i vostri orari preferiti. Inoltre potete visitare il mio canale YouTube dove troverete oltre 400 video. E infine vi informo che ho scritto quattro libri che si trovano soltanto su Amazon, sia in versione cartaccia che ebook. A presto!